Il ministro della cultura Gennaro San Giuliano si è dimesso, al suo posto arriva Alessandro Giulia, attuale presidente della fondazione Maxi, che ha già giurato ieri al Quirinale. Caro presidente, cara Giorgia, scrive il ministro nella lettera di dimissione indirizzata alla premier Meloni, dopo aver a lungo meditato in giornate dolorose e cariche di odio nei miei confronti da parte di un certo sistema politico-mediatico, ho deciso di rassegnare in termini irrevocabili le mie dimissioni da ministro della cultura. Dopo aver tentato di resistere, la situazione è precipitata nelle prime ore del pomeriggio di ieri, dopo le interlocuzioni tra via del Collegio Romano, sede del Di Castero e Palazzo Chigi. «Ti ringrazio per avermi difeso con decisione, per aver già respinto la prima richiesta di dimissione e per l'affetto che ancora una volta mi hai testimoniato», scrive il ministro nella sua lettera. Si cerca così di girare pagina, ma il caso non sembra essere chiuso, i viaggi sulle auto blu, le trasferte, i concerti, i pranzi e le cene con il ministro, ma anche l'accesso a informazioni riservate, la partecipazione a riunioni e incontri istituzionali. Chiusa la vicenda politica con le dimissioni da ministro della cultura, il caso San Giuliano Boccia si trasferisce nei palazzi di giustizia e finisce sotto la lente non solo della Corte dei Conti, ma anche della magistratura. Le parole dell'ormai ex ministro al Tg1 e quelle dell'imprenditrice Campana alla stampa hanno acceso i riflettori degli organi inquirenti che si preparano ad avviare le indagini del caso, sollecitati anche dall'esposto in procura del deputato di ABS, Angelo Bonelli. Dal canto suo questa mattina sono arrivate le parole della Premier Meloni da Cernobbio. Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare Gennaro San Giuliano per il lavoro che ha fatto in questi due anni. Come sempre le cose che si costruiscono fanno molto meno rumore e notizia, ma è stato importante il lavoro che ha fatto. Le parole della Premier Meloni.